La Presidente dell'Azione Cattolica Diocesana, insieme al Consiglio, ha presentato in curia la lettera che l'Associazione intende inviare a tutti i parroci della Diocesi e ai responsabili parrocchiali della Catechesi, in cui offre il proprio servizio e si rende disponibile ad un incontro personale per parlare della nuova sfida educativa ed umana che ci attende come Chiesa. In allegato alla lettera verrà inviato l'organigramma dei consiglieri di azione cattolica con i contatti, recapiti e parrocchie di appartenenza a cui coloro che sono interessati possono fare riferimento. A questa lettera seguirà un secondo contatto propositivo a cura dell'equip formazione che verrà esplicitato nei prossimi mesi.